Minecraft is the idea for you Minecraft mod is made Always no time to emancipate To keep the diamond mind deeper deeper Some of you come and catch it by a creeper Ciao Alpacchiotti Siamo sempre qua sulla Dying Wharf 20 O meglio conosciuta come la Volpecraft 2 Allora, sono entrato in questa caverna qua Offline E ho trovato tutta sta bella robetta Sta roba verde, azzura qua Carbone, redstone E prendiamo Eh, sono pieno qua Doviamo un po' che cobbio sta Non mi interessa niente Piena pistacchio verde qua Sta roba verde qua E vabbè, ok Siamo a livello 15 Per me tanto diamante questo livello non dovrebbe esserci Ecco c'è quella rezzo Non ho più per risposta Ah, 64 Ehm, buongiorno è andata via questa qua Eh, che paglia Ehm, cosa buttiamo via? Questo qua Dovamo fare un designetto sicuro Per il cambio Vabbè Vabbè Vediamo anche questo Facciamoci via sto Ferro che serve sempre E che c'è qua? Diamante Diamante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diamanti Adesso se devo prenderli Bopla 8 diamanti Sè Vediamo anche il resto Ci sarà sempre anche il resto Quanto è il resto Quanto è il resto? qua cosa buttiamo via questo qua tanto non faccio niente ok adesso è quasi quasi mettere un peggio punto qua e scriviamo crana crana 3 ok andiamo a casa adesso buttiamo via un po' che robetta qua ho detto voi no questa robetta qua oh che palle spada qua questo qua e questo qua adesso qua è pieno qua è quasi vuoto mettiamo questo questa roba qua diamanti soprattutto questo lo si può mettere qua ma non è qua c'è sta c'è spazio c'è spazio mettiamo questo qua questo non mi ha sposto ok vediamo che facciamo primo crafting almeno allora allora vediamo che borse che abbiamo qua di la spesa non mi ha sposto però non mi ha sposto lo tagliamo strappo. Facciamo la borsa qua. Allora, che borsa che abbiamo? Toscine. Allora, come c'è? 15 slot, 45 tessuto, zaino, del ferroviere, mi interessa niente. Ender, peps, so come farei, però. Come sono questa roba? Perle, perle dell'ender, una lana. Il fuoco c'è, blaze ce l'abbiamo, polvo del blaze. Se non mi sbaglio. Allora, faremo più avanti. Dove sono i zaini? Dove sono i zaini? Zainetti. Usano l'appicoltore, minatore, solo 15 slot però. Qualcosa di più capiente. L'epic stream, grande per minatore, 45. Poscaiolo. Avventuriero. 45 dell'avventuriero. 45 dell'avventuriero. 45 slot per lo sogno. E mi sa che sono solo quelli però. I zaini che si possono fare. E mi sa che sono solo quelli però. I zaini che si possono fare. Pesco questo. Eeeh vaffanculo va capito. Vediamo questo. che è questa roba? fila e seta eeeh va a fare il culo va e va dai no ok spazzaneve ferroviario non mi interessa niente al pico il torre non mi interessa scavatore eeeh quindici so che schifo nel minatore piacete però mi da solo a me che coioli ve lo sti app vedi qua ho fatto qua già il nominatore vabbè allora dovrei allora una cesta ce l'ho già il filo se lo uno schifo qua dentro ok ci sono 6 6 6 7 8 allora il minatore scavatore 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 lana 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 una sola scavatore la paletta non dimenticare una questa filtra 1 ma lana 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 questo va così no l'apicoltore minatore allora covagliana questo qua voglio ok grazie questo qua dopo va l'apicoltore ferro do prende il ferro che è poco a posto sta roba ferro 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 quanti mi servono due sole aspettano faccio due zaini cosa mi sono a posto questo qua 12 4 benissimo il figlio ce l'abbiamo ok Adesso questo qua è il miniatore, allora, uno e due, ok, uno, due e uno e due, ci vanno due qua, uno, due, uno, due e uno, due, ok, ci ho fatto benissimo due. Così abbiamo, c'è un pochettino, però vabbè, non mi ho preso due, almeno 30 slot abbiamo da, mettiamo così, così mettiamo tutto via, facciamo solo 40 a fare, ci facciamo, ci possiamo fare altri, bastoncini, altri a fare, ok. Lasciamo qua, e andiamo in miniera di nuovo. Oh, cavolo, ah no, modifica nulla. Detasport, grazie. Allora. Questo qua. Ce lo prendiamo, il farno. Siamo a livello 14. Allora. Devo si arriva a chiudere. Sì. Sì. Altro diamante. Ale, 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 ale. Diamante, sì, sì, sì. Che ho? Eeeh, quanto diamantino. Quanto amo il diamante. Eeeh, ancora. Eeeh. Una miniera di diamante. Siamo a livello 16 solamente. Uuuuuh. Qua. Quattordici diamanti. Quattordici diamanti. Uuuuuh. Ma uuuuuh, signori. Tanto mi sa che dovrò. No. Alta redstone. Bellissima. Ci serve. Oro, 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 vaffanculo, chi è un bel bel vero, ci serve un po' di ferro, no non ho altro, poverica paletta, togliamo a casa, mi sono venticato di craftarmi, qua c'è un piccone a ferro, dovrei anche avere un altro nuovo, in teoria, in pratica no, bene, ci facciamo, 1,2,3, ok, sticchetti ce l'ho qua, spesa tanto buttiamo via, buttiamo via, sto cazzo buttiamo via, dov'è? Ok, ora buttiamo via sta roba, chiamatemi 22, 3 lapi e slassoli, oro, facciamo il ferro, questo, mettiamo via, ok, dovevo fare un'altra chest penso, comunque, eh sì, qua, 3 su e 2 giù, è un altro piccone qua, ok, anzi quasi quasi mi faccio direttamente un'altra chest nuova, si facciamo questo qua, ci spiazzchiamo qua, 1 e 2, e metto qua, mettiamo questo, 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 e questo, ok, adesso siamo, penso che siamo di nuovo pronti per andare in miniera, sì, intanto, ok, facciamo così, caverna e telta, esportiamoci là, ok, qua c'è il carbone, c'è dove ho acciato, vediamo che ci sono qua, non voglio niente lasciare indietro, questo no, qua c'è l'acqua, facciamo così, ok, no, qua c'è anche il carbone, facciamolo poi, tutto voglio prendere sta resto, ok, ancora resto, ce l'abbiamo, l'oro, non so cosa serve l'oro, però vabbè, non serviva a niente, o a poco, ok, diamante, 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 c'è acqua, tu, una miniera di diamanti, vieni qua, amore mio, ti devo chiuderti, mi piace per te, ma mi sento un po' sulle baglie, acqua di cazzo, ok, aspetta, aspetta, una torcia qua che non spawni niente, diamante, 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 bel diamante mio, se abbiamo altri, altri sei diamanti, yuppie, quella schifezza là, ok, ok, facciamo così a sopra, non so mai, ok, eeeh, quanta bella roba qua, allora, facciamo così, quanto mi piace dai miniari, trova tutta sta bella robetta, così, ecco, sì, facciamo qua, 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 ci vediamo lo zolfo, ma quel zolfo non posso più prenderlo, non fa niente, ok, questo lo blocchiamo tutto qua, se no, ok, continuo a correre, però fa niente, ok, quanto zolfo, poi se mi sapete cacchio, serve il zolfo, vi fate un grande favore, che cosa potrebbe servire, mettiamo via questo qua, carbone, che è sempre utile, finché non abbiamo la corrente, vera e propria, ok, basso il carbone, no, ho messo l'otto, quanto carbone ho fatto, quanto carboni ho fatto, abbastanza, vediamo questo qua, quanto zolfo, ok, c'è altro zolfo, poi c'è altro zolfo, fatemi sapere che cosa serve il zolfo, che io sinceramente non lo so, che non l'ho mai trovata in miniera, il zolfo, spiaccico, una torcia, ok, vedete qua con una torcia, che non sta una, nessuno, mostro il chatolo, ok, qui apriamo sta redstone, sta bellissima redstone, anche qua, anche qua sopra, sta roba valle qua, che non servirà a niente, però, i lapis lassuli, troviamo la torcia, e qua è finito, ok, vediamo sto ferro, bisogna sto piccone, tanto deve finire, ecco qua, ok, adesso usiamo sto qua di pietra, ok, vediamo sta roba, guarda qua, c'è l'estero, che sembrerebbe diamante, ma non lo è, non lo è, adesso, qua c'è l'altra roba bella, ma io quasi quasi, andrei di nuovo a casa, mi crafterrei un bel, questo è il faro qua, tanto mi svuoto la roba, ok, e ce la mettiamo qua, altri diamanti, quanto mi piacciono i diamanti, questo va qua, questo va qua, mettiamo io questo qua, la redstone, questo qua, ok, adesso mi servirà però, no, niente, ci facciamo, uno e due, ok, ci riempiamo di acqua, l'acqua ce l'ho qua, uno e due, ok, adesso possiamo ritornare, un momento, guarda quanti minuti sono notti, a 25, buono ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti voi macchiotti, e che la volpe se sembra voi, ciao ciao, ok, qua, la 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 la,